45 pratiche edilizie relative ad interventi edificatori nella cosiddetta fascia pedemontana in attesa di rilascio praticamente bloccate. Una stasi che si riflette negativamente su un settore, quello edilizio, che ad Alcamo annaspa tra difficoltà e carenza di aria, un'importante valvola per l'occupazione e quindi per l'economia. Un importante momento, atteso anche da anni, da chi vuole realizzare il sogno di possedere una casa, ma tutto resta bloccato anche per la lentocrazia della giustizia italiana, in questo caso la Corte di Giustizia Amministrativa, che deve sentenziare se su quella fascia si poteva costruire o no e quindi se si può continuare ad edificare. Tutto parte da un ricorso al Tari, che ha dato ragione al Comune, che lo aveva presentato opponendosi alla costruzione di due immobili. Stranamente, lo stesso Comune, negli ultimi 13 anni, per la stessa zona, ha dato 160 concessioni edilizie che hanno comportato la realizzazione di immobili, oggi tutti abitati. E per l'immediato futuro, se la situazione non si sblocca, al Comune di Alcamo arriveranno decine di richieste di risarcimento di danni milionari da parte di privati. Di confusione normativa e di cortocircuito parla il responsabile di servizio urbanistica e pianificazione Giuseppe Stabile, che in una lettera indirizzata al commissario comunale, ha sollecitato di attivarsi urgentemente presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, a fine di chiedere ufficialmente e con procedura d'urgenza la fissazione dell'udienza, allo scopo di evitare ulteriori problemi al Comune e dare quindi una risposta ai cittadini. Lo stesso dirigente chiede di concordare e condividere con l'amministrazione e l'avvocatura comunale la possibilità di procedere al rilascio di concessioni nella zona pedemontana relativamente ed esclusivamente a proposte di variante o ultimazione di edifici già regolarmente approvati, con concessioni edilizie già rilasciate, che non comportino aumento di volume né insediamenti di nuovi volumi. In questo modo si darebbero risposta a quei cittadini che oggi hanno l'esigenza di ultimare e definire costruzioni già iniziate.